La squadra di Cozzati quest'anno ha visto che hanno tanto giovani e vogliono far crescere i giovani di loro vivaio. È una squadra ovviamente che ha fatto qualche bella partita contro, ho visto un paio di partite di loro, non è che è una squadra che verrà qua e noi dobbiamo pensare che è facile e prendere la partita per scontato vinto. Noi dobbiamo sicuramente giocare, ma io vorrei più concentrare su di noi, su nostra squadra, perché abbiamo ritrovato nella nostra fiducia, quindi anche contro la partita di sabato contro i crociati credo che dobbiamo pensare più a quelle che volevamo fare bene noi e non guardare altri, perché ho visto un po' la storia di nostra squadra l'anno scorso, che quando giochiamo contro le squadre che noi pensiamo dovrebbero essere più debole, giochiamo male e contro le squadre più forti giochiamo bene. Quindi io vorrei che entriamo con l'atteggiamento che abbiamo avuto in Coppa anche contro i crociati sabato. Penso che la differenza tra la Coppa Europa o il Challenge Cup l'anno scorso e quest'anno è proprio come ha detto lei che giochiamo con una squadra e il titolare. Ovvio che io credo che tutte le cose vienino piano piano, step by step, quindi l'anno scorso c'era un motivo perché l'ho fatto, era il primo anno, anche i nostri giocatori per tanti era la prima volta in Coppa. Penso che abbiamo fatto maturare un paio di giocatori giovani che abbiamo visto già sabato in campo, a Lubian, Andrea De Marchi, Lorenzo Lubian e anche Edoardo, sono tutti giocatori, Michele Gianerato, che l'anno scorso è la prima volta fatta una partita di Coppa. Questo anno non ho neanche paura di metterlo in campo perché loro hanno giocato veramente bene e credo che quest'anno abbiamo maturato come squadra e quest'anno affrontiamo tutte queste partite con migliori giocatori, con la miglior squadra su quelle giornate lì. Ovvio è la parte negativa, abbiamo perso due giocatori importanti per questa squadra, prima Barry e dopo, anzi tre siamo, prima Barry, dopo Montreal e Bacchetti. Rugby è un sport di combattimento e ovvio che questa cosa succede. La cosa bella è che, come vi ho detto, abbiamo fatto maturare un sacco di giocatori l'anno scorso, quindi ho i giovani che può entrare al loro posto, che può fare questa partita di campionato e credo che anche il fatto che la squadra sia ritrovata, sta giocando bene, ci sono le strutture che funzionano, è più facile per un giocatore individuale entrare in questa squadra in questo momento. Quindi io ho tanta fiducia per sabato, niente mi fa paura il fatto che abbiamo perso questi giocatori. Io credo che chi entrerà in questi ruoli farà bene perché la squadra darà una mano a loro. Come io ho sempre detto, questo è il Vigo l'anno scorso, ho dimostrato che è una squadra che vince, non i giocatori individuali, perché abbiamo tutti i giocatori che, se ognuno fa il suo ruolo, fa avanzare questa squadra in modo giusto. Andrew Scholes è un giocatore di qualità, è un giocatore molto rispettoso e che viene molto rispettato in Sudafrica per quello che ha fatto, è un springboard, è un giocatore che ho visto che subito negli elementi ha capito tutto, quindi non è un giocatore giovane che arriva qua, che la lingua può essere difficile, il gioco può essere difficile. La cosa positiva di lui è che sì, la lingua è difficile, ma è entrato subito nel gioco perché lui capisce il gioco, è stato capitano di sua squadra, ha giocato il Super 15, quindi ha giocato a tutti i livelli e credo che questo dà anche un po' di entusiasmo per la partita di Sabato, ma anche dentro la mia squadra, perché loro, ho già visto che lui ha guadagnato un po' di rispetto negli elementi, che non ha tenuto niente indietro, ha andato pieno velocità su tutto, placava, andava a recuperare i palloni, quindi credo che questo, anche per i tifosi, per la società, crea un po' di entusiasme e credo che questo ci può dare quella spinta in più Sabato.